Musica Neanche il tempo di respirare dopo il turno di Coppa per le società di eccellenza e promozione. Nel massimo campionato regionale Cervinara e Sant'Omaso scenderanno in campo di domenica affrontando rispettivamente Faiano e Rinascita Vico. Il suo rufra invece sarà impegnato di sabato contro la capolista ebolitana. In promozione si comincia a fare sul serio e sale notevolmente l'adrenalina. La Virtus Avellino potrebbe saccare definitivamente la concorrenza ma dovrà inevitabilmente superare lo scoglio Paolisi e sperare nella sconfitta o in un pareggio delle clanese che a sua volta sarà impegnato contro lo Sporting Accadia che nell'ultimo turno di campionato ha scondato il turno di riposo, turno ancora da scontare dalle clanese di Alessio Martino. Non sono soltanto questi i match di cartello perché sul sintetico di San Michele di Serino si affronteranno gli uomini di Antonino Gargiulo contro il comprensorio miscano di Carmelo Marinaccio, due formazioni che fino a questo momento hanno sorpreso tutti restando nelle zone alte della classifica e soprattutto dando filo da torcere alle corazzate del campionato. La giornata si completa con Artemisum Bisaccesi, con Olfi Baiano, San Martino FC Avellino e Dariano Montella riposerà il grotta di Mr. Bruno.